bene benvenuti qua a ferno in seconda c dove stiamo affrontando con questi bellissimi simpaticissimi ragazzi un progetto sulla legalità un percorso molto lungo che ci ha visto affrontare una serie di tematiche sto parlando con cristian joele elena francesca che in rappresentanza della di tutta la classe rispondono una serie di domande la prima è che cos'è la legalità rispettare le leggi la legalità è il rispetto di leggi regole e persone è il rispetto di leggi e rispettare i diritti delle persone è una cosa che si può fare senza avere conseguenze negative perfetto seconda domanda come si può fare a evitare di finire in situazioni negative comunque illegali stando lontano dai pericoli pensando prima di agire evitando le persone non raccomandate bisogna essere coscienti di quello che si fa e pensare alle conseguenze che può portare ottimo invece se vogliamo evitare o comunque aiutare i nostri amici a evitare di finire nei guai come possiamo fare dicendogli a cosa vanno incontro aiutandoli a ragionare prima di fare con la cosa che stanno facendo tenerli fuori dai guai e dirgli quello che è giusto e quello che non è giusto fargli ragionare fargli ragionare mi sembra già un assolutamente una cosa importante ultima domanda la cosa più importante allora secondo voi è utile parlare di queste cose a scuola se sì perché se no perché sì perché ci insegna le cose giuste così da non farle più sì perché ci aiuta a ragionare tutti insieme sì perché ci serve a capire quello che è giusto e quello che è sbagliato sì perché si evitano molte cose negative ottimo ragazzi fate un saluto